Si chiude in primo grado il processo che da un lato vedeva il consorzio tre sorgenti di Canicattì e dall'altro l'EAS, ente acquedotte siciliano, il Voltano, i comuni di Agrigento, Raffadali, Aragona, Iopolo, Giancaxio, Porto Empedocle, Comitini, Favara, San Biagio Plata, di Sant'Agere, Muxare, Sant'Elisabetta. In causa erano stati chiamati anche gli ex amministratori dell'ente acquedottistico che ha sede in Largo Verri a Canicattì come l'ex presidente Mario Augusto, gli ex segretari Giuseppe Monreale e Graziella Monreale e rappresentanti ex del Voltano Ignazio Puccio, Vincenzo Di Giacomo e Rosario Manganella. I legali del tre sorgenti avevano instaurato questo procedimento civile poiché ritenevano che EAS e Voltano, sin dal 1995, avrebbero ottenuto risorse idriche distribuite successivamente ai loro comuni consorziati ma allo stesso tempo non avrebbero versato nelle casse del tre sorgenti le corrispettive somme procurando in questo modo un grave danno economico. Inoltre il consorzio acquedottistico Canicattinese aveva citato in giudizio anche i suoi ex amministratori e anche ex dirigenti di EAS e Voltano perché accusati di non aver fatto rispettare gli accordi che in sostanza avrebbero dovuto portare nelle casse dell'ente le somme relative all'utilizzo dell'acqua. Per questi motivi era stato avviato un contenzioso presso la sezione civile del tribunale di Agrigento. Il procedimento giudiziario, dopo numerose udienze, è andato in decisione soltanto lo scorso 3 marzo quando il giudice Andrea Illuminati ha emesso la sentenza. Per il contenzioso relativo alla richiesta di pagamento dell'acqua che EAS e Voltano avrebbero ricevuto al tre sorgenti ha rimesso tutto al tribunale superiore delle acque pubbliche in quanto unico organo abilitato a trattare questo genere di vicende. Per quanto riguarda invece le richieste di esarcimento chieste ad ex amministratori e funzionari nonché a dirigenti di EAS e Voltano il giudice ha rigettato per legge nella sentenza perché infondate. Il test sorgente invece è stato condannato a pagare le spese processuali nei confronti di Mario Augusto, Giuseppe Morreale, Graziella Morreale, Ignazio Puccio, Vincenzo Di Giacomo e Rosario Manganella quantificate in 3.000 euro ciascuno. 3.000 euro ciascuno andranno poi al Voltano e a 6 comuni di Comitini, Favara, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Buxaro. Mentre per quanto riguarda gli altri enti chiamati in causa la partita rimane aperta e sarà come detto il tribunale alle acque pubbliche ad occuparsi della questione. In sostanza il giudice ha rigettato la tesi che negli anni ci sia stata una sorta di complotto anche perché nulla lo ha dimostrato con il solo obiettivo di creare danni economici nei confronti delle tre sorgenti. Il consorzio con i cattinese è stato difeso dall'avvocato Angelo Armenio e il Vultano dall'avvocato Girono Morubino e l'EAS dall'avvocato Alfonso Neri.